Innefestazioni di sterpaie e fuoco a ridosso della Valle dei Templi, l'incendio sulla collinetta sottostante il Tempio di Giunone e le minacce intorno al viale alberato. Che il fuoco bruci campi di sterpaie già arrostite dal sole, sì, anche se sarebbe meglio no, perché spesso poi l'incendio dilaga e lambisce, se non aggredisce, altro provocando danni. Che le fiamme brucino intorno alla Valle dei Templi, ad Agrigento. Invece no, senza alcuna riserva. L'accadimento da cui si trae spunto è l'incendio che ha bruciato una collinetta sottostante il Tempio di Giunone, su cui peraltro si erge ed è coltivato un campo di pistacchi. Vigili del fuoco e guardia forestale, allarmati da alcuni automobilisti in transito, non sono intervenuti in tempo, probabilmente perché impegnati su tanti altri fronti dove i raggi del sole di luglio 2016 scottano a 40 gradi. Le fiamme, pazientemente ma con virulenza, hanno così bruciato il tutto. E gli stessi automobilisti in transito sono stati testimoni impotenti, immobili con il telefonino cellulare in mano. Poi hanno riavviato la marcia dalla rotonda Giunone verso ovest, lungo il leviale alberato, ai piedi del Tempio della Concordia. E, a parte gli alberi di pino che accompagnano la carreggiata, si sono accorti che da piano San Gregorio fin su alla vetta e alle prime rovine della civiltà greca, vi è una infestazione colossale di sterpaglie. Sarebbe sufficiente che si fumasse una sigaretta, lanciando poi le mozzicone ardente, per infuocare irrimediabilmente anche la collinetta del Tempio della Concordia. Dunque, prevenzione. Perché non tossare come la lana di una pecora il perimetro circostante al patrimonio dell'umanità? Durante le stagioni estive precedenti, gli incendi che poi ricorrono sempre nello stesso periodo e non tardano mai l'appuntamento, hanno danneggiato terreni pregevolmente coltivati che fruttificano e fruttano i prodotti tipici della Valle dei Templi, ormai da etichetta e origine riconosciuta. Quindi, perché non intervenire sulla cintura di sterpaglie che avvolge la valle, che la minaccia e che resa più ardimentosa dalla temperatura bollente? Giovedì 16 giugno, mani oltraggiose, vigliacche hanno incendiato bosche e foreste di mezza Sicilia. Martedì 12 luglio, altrettante mani delinquenti hanno bruciato 50 ettari nella riserva naturale di Torre Salsa, dove due canadeire e un elicottero della forestale hanno lavorato da mattina a sera per domare le fiamme. Almeno, usando in conclusione la stessa premessa, si preservi la Valle dei Templi. Al prossimo episodio Al prossimo episodio Al prossimo episodio